Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi tornò a casa sua. La parola del Signore. Vogliamo prendere da questa liturgia, in onore di Maria, due indicazioni per la nostra vita, per la nostra meditazione. La prima riguarda l'ideale della vita cristiana, la luce di questa pagina del Vangelo. Molte volte in alcuni ambienti la Madonna è chiamata Madonna del Magnificat. E in Palestina, dove si ricorda la visita della Madonna Elisabetta, c'è una stanza, un'aula, dove c'è il Magnificat in tutte le lingue del mondo conosciute fino a quel momento. Questo titolo della Madonna, Madonna del Magnificat, sottolinea un aspetto bellissimo della sua vita, che è questo spirito di lode, di riconoscenza, di entusiasmo, di alleluia verso Dio per le cose grandi che ha fatto nella sua vita. E la Madonna a un certo punto fa pure una profezia, dicendo che nei secoli tutte le generazioni la chiameranno Beata, come per dire che questa lode del Magnificat supererà la sua vicenda storica e si dilaterà come un'onda meravigliosa del mondo. E tutt'oggi, ogni giorno alla sera, durante il Vespro, in tutta la Chiesa, ormai da secoli, si prega con queste parole di Maria, attribuite a Maria di Magnificat, perché questo delinea un aspetto profondo della sua personalità. Ecco, però, forse noi non pensiamo che nel disegno di Dio anche noi siamo un meraviglioso Magnificat. Piccolo riguardo alla Madonna, ma ugualmente meraviglioso. Il disegno di Dio di noi, soprattutto in futuro, è che possiamo lodare, benedire, magnificare Dio dal profondo del cuore. E come possiamo noi adesso camminare verso questo ideale, diventare un piccolo, prezioso, magnificat della nostra vita? Ecco, intanto cominciamo dalla parte facile, che è quella di amare questa preghiera e poi di estenderla, a lodare e benedire il Signore per le grandi e per le piccole cose della vita in cui abbiamo visto la presenza di Dio per noi. Ecco, però c'è un segreto che rende possibile l'esplettamento di questa vocazione per noi, ed è la fede nel Dio che crea novità. La fede, potremmo dire, in quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ecco, io faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete, e farò scorgare una sorgente d'acqua in mezzo alla steppa. Ecco, Dio ha questo potere. E beato te, beata te, se nel tuo cuore c'è un'apertura per credere, per credere. Io spero tanto che le cose brutte della vita, che purtroppo ci sono, non abbiano chiuso il tuo cuore in un pessimismo che non ha spiragli. Ecco, questo pessimismo è una delle opere più terribili del demonio. Ma lo Spirito Santo viene in tuo soccorso e, nonostante tutto, apre nel tuo cuore la speranza. Perché colui che ha fatto risorgere un giorno dei morti Gesù, può fare risorgere anche te. E questo è il presupposto necessario perché la tua vita diventi un prezioso Magnificat. Così sia.